Il giorno che partì per il seminario solo mio fratello venne a salutarmi Ogni tanto Manrico veniva a trovarmi Era l'unico T'ho portato un regalino, la foto della ragazza mia, chissà ti fa il miracolo Che miracolo? Reggi va, il miracolo che torna normale Hai visto come stai? La religione non è vera o niente Sì, e Gesù allora? Gesù era un rivoluzionario che rompeva le palle dei romani E' per questo che ha fatto la fine che ha fatto? E la Bibbia? E Dio che ha creato da... Mio fratello mi ha raccontato della fidanzata E mi ha anche lasciato una foto in cui mi ha fatto peccare Ma questa è un'attrice Un'attrice? È un'attrice, si chiama Maria Salacea, fa l'attrice Vabbè a me piace troppo, sto in peccato mortale padre, che devo fare? E che ti dici aria? È la prima volta che commetti questo tipo di peccato Sì Recita sei Ave Maria e sei salvo regina Mi assolvi? È certo che ti assolvi Guardi che io ci ricasco Ma che vuol dire che ci ricaschi, dai? Poi non è detto che ci ricaschi È detto, è sicuro Come fa ad assolvermi? Io non voglio essere assolto Senti oggi sono un po' troppo agitato Magari ne parliamo Per un prete la purezza è tutto Ok? Ti sei toccato, eh? Perché ti frega a te? La prossima volta che ti ha E hai detto con me che te lo tocco io E se ti chiedono a chi ti ha ritornato Di che è stato Antonio Berassi di Tavadino Detto faccio Capito? Lo sto assolto io C'è una crisi di coscienza Che te lo fa? Oh, bacio, ciao Oh, ma che è una piccoccia di strani? Tutta nulla, non lo so Ma che sei un'estraneo te? Che ne sapevi che ero io? Oddio, come sono io? Mamma? Basta, certo, ci mancavi solamente tu Che prendevi questa bella decisione Vabbè dai, dammi un bacio Ma che è questo aggeggio? Questo aggeggio E serve per arrotondare, no? Scusa Con lo stipendio di tuo padre Dopo la metà del mese Io riesco a darvi da mangiare Solamente pane con l'acqua e lo zucchero Oh, Marisa Lanza è fatto da gravi